Ok, avendo aggiunto questi mancano ancora 3 euro Oh, in tal caso può chiedere un occhio e magari coprire la differenza per me? No Vabbè, ci ho provato, mi lasci controllare su qualcosa Non si preoccupi, faccio pure con comodo, ho dato il mio turno finisce tra 9 ore Ragazzi, lei non sa che io conosco questo trucchetto Prendo una di queste, grazie Oh, bene, di quanto vuole che la carico la gift card? Qual è il massimo che può caricare su quella carta? Allora, questa carta può essere caricata fino a un massimo di 500 Vada per 500 Benissimo Il totale è di 503 euro Perfetto, dovrebbe già avere la mia carta Mmm, no, sono praticamente sicuro di non avere la sua carta Eh già, come no, la gift card che le ho appena dato Ah, forse non mi sono spiegata, deve metterci i soldi prima di poterla usare Ma ovvio che lo so, c'è appena messo il 500k sopra, perciò la strisci pure Signore, questa carta al momento è vuota Per attivarla deve pagare i 500 E anche se li pagasse, rimangono comunque quei 3 euro famosi Signorina, venga qui Mi dica, è la prima volta, è vero, che utilizzi una gift card? Deve solo strisciarla così Un movimento lento, delicato, ma io lento Come ci insegna Gigi Doug Eh, lui non sa che io conosco questo trucchetto Fuori! Allora! Grazie a tutti.